Se riscontri problemi di lag sul gioco off the grid è possibile ottimizzare il gioco al meglio anche se ho una 30 e 70 e questi sono gli fps che riesco a fare non riesco neanche ad arrivare su 50 fps massimo 34 fps e 29 fps anche se metti tutto a basso provi a fare di tutto per ottimizzare il gioco non funziona non va bene quindi i creatori hanno veramente rilasciato un gioco ottimizzato malissimo come requisiti minimi richiede così una 30 e 60 come requisiti minimi se andiamo anche nel negozio a vedere i requisiti andiamo sul gioco off the grid prende 60 e consigliate una 40 e 70 il problema non sono quelli del processore o memoria RAM ma il problema è la scheda grafica quindi se adesso vado anche su impostazioni metto tutto basso ultra performance con nvidia dlss o puoi mettere le fsr 3.0 che è ancora meglio si può ridurre di parecchio la grafica performance ultra performance e applichiamo così i cambiamenti mentre come puoi vedere sullo schermo solo nella lobby arrivo sui 119 120 fps con questi effetti visivi sotto e ha ridotto anche un po la grafica del gioco e anche in movimento come puoi vedere in movimento si vede anche un po sfocato tenendo anche la sfocatura di movimento off ha sempre questi effetti ridotti quindi andiamo direttamente sul nostro programma pannello di controllo di invidia che ti ho lasciato in descrizione quindi andiamo così a scrivere invidia control panel tu lo puoi scaricare e installare sul tuo sistema operativo invece se hai una scheda grafica e invidia lo tieni già qua su andiamo direttamente su gestisci le impostazioni 3d impostazioni programma aggiungiamo così il programma andiamo su sfoglia disco locale il disco dove tieni il gioco quindi andiamo alla cartella g01 quindi vado nel disco vado a prendere così il gioco sulla cartella vado in g01 binaris 64 ed eccolo qua g01 client e faccio apri ora ridimensionamento immagine metto disattivato e faccio ok questo non ci interessa più giù più filtro anisotropico questo qua lo tengo su 2x filtro struttura restringimento bordi filtro struttura ottimizzazione cambio disattivato qualità questo metto prestazioni elevate frequenza fotogrammi massimo posso anche applicare fino a 1000 fps però tanto non è che farò tanti fps sempre sui 40 45 basta che riesco a farla arrivare sui 60 fps gp rendering opencl metto la mia scheda grafica modalità bassa latenza metto ultra occlusione ambientale non sopportata per questa applicazione quindi se nel gioco c'è l'occlusione ambientale tu devi disattivare quell'impostazione ottimizzazione con triad metto automatico sincronizzazione verticale metto disattivato tecnologia monitor uso la compatibilità gsync la più elevata disponibile e faccio applica quindi in questo caso andiamo direttamente sulle impostazioni del gioco come puoi vedere anche mettendo oltre a performance dlss press quality custom e metto tutto lo tutto basso un singolo metto disattivato per non bloccare gli fps tutto lo settata così la grafica andiamo direttamente su grafica qua sopra scrivi qua sopra grafica impostazioni grafica aggiungi una app desktop e andiamo così a prendere il percorso file del gioco g01 client 264 shipping lo aggiungo qua clicco sopra preferenza scheda video lascia la scelta windows e adesso imposto la mia faccio anche un reimposta posto di nuovo la mia e basta e chiudo qua per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao